idea web con ester serafini palleggiatrice lpm bam mondo vi alla partenza della squadra per soverato dove il puma affronterà le padroni di casa per un'altra partita della pool promozione ester fra rimini macerata due giorni qua poi ripartenza diciamo che un periodo in cui non vi state annoiando per niente allora no sicuramente no infatti appunto domani mattina ripartiamo un'altra importante trasferta giocheremo appunto contro il soverato di cui sicuramente dovremmo cercare di dare il massimo anche perché siamo arrivati in una fase del campionato dove ogni punto è importante quindi cercheremo di mettercela tutta e di portarci a casa la partita comunque soverato una formazione che avete già battuto poche settimane fa in coppa italia comunque non è minimamente da sottovalutare no assolutamente come ho già detto appunto ogni punto adesso è fondamentale quindi cercheremo di dare il massimo e vedremo poi siamo comunque in qualche modo anche arrivando alla fase finale della stagione quali sono un po i tuoi ricordi le tue le tue idee su quella che è stata la tua stagione a mondo vi no allora sono sicuramente molto contenta ormai sì siamo in fondo quindi abbiamo dei grandi obiettivi e speriamo di raggiungerli proprio per completare l'anno nella maniera giusta e vedremo poi alla fine come andrà grazie mille ciao grazie